ben ritrovati buon anno a tutti quanti voi il primo appuntamento dell'anno qui da buzzetti a ro in via al cd de gaspere numero 24 vado subito a salutare augurare un buon anno anche a te a michele ciao ben ritrovato ciao carissima grazie è vero buon anno buon anno a tutti quanti i nostri amici che ci seguono e soprattutto iniziamo alla grande perché quest'anno ci sono tantissime novità come sempre del resto ma quest'anno veramente iniziamo bene un grande focus su crossland x e comunque tutto il resto della gamma x nonché le nostre star adam corsa carl rocks bene io direi a questo punto di ma andiamo avanti con i colleghi ragazzi che vi spiegheranno tutte le offerte i dettagli ci vediamo dopo per un saluto grazie ciao un buon anno da dimitri e da francesco partiamo con il nuovo anno nuove offerte e cosa dirvi eccezionali siamo già partiti in salita c'è veramente sul pezzo veramente vi passo francesco così vi illustra qualcosina allora una cosa veloce abbiamo delle super offerte sulle city car allora le tre city car le macchine da città perciò comunque che rientrano nelle fasce dei dei consumi del nei limite del delle macchine ecologiche perciò non avete nessuna super tassa abbiamo le offerte a 99 euro al mese con scelta opel con dentro tutti i servizi perciò zero pensieri incluso di assicurazione furto incendio atti vandalici completa avete solo l'rc che a parte al limite si può anche includere dentro e l'estensione della garanzia perciò zero pensieri scelta opel vi garantiamo il valore futuro il valore futuro dell'auto dopo tre anni dopo due anni quello lo scegliete voi che si può personalizzare a vostro piacimento cosa importante dimitri la super valutazione dell'usato allora siamo alle massime quotazioni e vi facciamo veramente le massime quotazioni di mercato e veniteci a trovare e vedrete che sarà tutta realtà cosa aggiungere allora cosa aggiungere che scelta opel oltre che essere due tre e anche quattro anni diciamolo i quattro anni ve lo sconsigliamo perché diciamo che una macchina forse dopo tre anni è sempre bello guidare una macchina nuova dentro come diceva giustamente francesco nei servizi potete includere tutto dall'assistenza all'assicurazione alla copertura totale e includere anche le gomme le gomme invernali le gomme stive tutto quanto come se fosse un piccolo non legge a lungo termine ma la macchina vostra e scegliete dopo due tre quattro anni cosa fare tenerla cambiarla o restituirla semplice però buzzetti anche veicoli commerciali esistono mille soluzioni di per la vostra azienda comunque di acquisire un veicolo commerciale abbiamo il nuovo combo il combo cargo venito a vedere venito a provare molto bello con due soluzioni di misura e due soluzioni di pesi di portate fino a tre posti dopo e eventualmente quando venite lo provate potremo configurarvelo in base alle vostre esigenze alla vostra società pagamenti sono infiniti perciò scegliete voi dalla quota con tanti all'anticipo volete dare anche zero anticipi eventualmente non dimentichiamo che facciamo anche leasing noleggio perciò fateci la vostra richiesta e noi vedremo di esaudirla non dimentichiamo che ci sono anche macchine per i neopatentati perciò potete scegliere quello che volete vi personalizziamo nel senso vi diamo supporto anche per chi ha per il disabile perciò iva 4 per cento e tutte le informazioni che vi possiamo dare per la detrazione fiscale certo non dimentichiamo un'altra cosa che buzzetti oltre veicoli commerciali oltre le vetture nuove soluzioni di pagamento abbiamo anche un'infinità incredibile di chilometri zero passiamo la parola a maurizio così vi illustrerà le mille soluzioni le migliori offerte ok vi aspettiamo vi aspettiamo un saluto da me e da francesco ciao a presto le offerte ovviamente non sono finite per questo appuntamento sempre qui da buzzetti e ora andiamo a vedere qualche promozione sull'usato e su chilometri zero insieme a maurizio il responsabile appunto dell'usato ciao ciao rihanna ciao a tutti nuovo anno nuove vetture tutte disponibili per voi chilometri zero usate a volontà quindi adesso partiremo con una splendida rassegna vi presenterò tutto naturalmente non potrà presentare tutto quello che diciamo il nostro stock di vetture chilometri zero usate però vi darò un'idea molto molto ampia di quello che buzzetti ha in disponibilità per voi ok partiamo partiamo subito con una nostra splendida vettura aziendale un opel corsa 1.4 benzina bicolor cinque porte del maggio 2018 con soli 7.940 chilometri una vettura con vetri posteri oscurati cerchi in lega sedile posteriore sdoppiato fin di nebbia climatizzatore è una vettura che proponiamo a un prezzo di 10.600 euro passiamo a una opel moca 1.700 diesel 130 cavalli start and stop 4 per 2 una vettura dell'aprile 2013 con soli 73 mila chilometri una vettura perfetta oserei dire quasi pare il nuovo a un prezzo di 11.300 euro passiamo ora una splendida opel grandland x 1.600 diesel automatica innovation full optional una macchina eccezionale chilometri zero del settembre 2018 come prima matricolazione che proponiamo a un prezzo di 24.500 euro una vettura veramente da non perdere passiamo ora una opel adam 1.2 70 cavalli glam benzina del novembre 2018 sempre chilometri zero le abbiamo disponibile in varie colorazioni in varie colorazioni scusate è una vettura che proponiamo a un prezzo di 11.600 euro passiamo ora una opel crossland x 1.2 turbo benzina 110 cavalli start and stop innovation con cerchi in lega interno pelle tessuto bracciolo clima automatico è una vettura veramente splendida del novembre 2018 sempre chilometri zero con comprensive le pedane laterali a un prezzo complessivo di 19.500 euro naturalmente per il passaggio di proprietà opel mocha x 1.400 turbo 1.140 cavalli start and stop innovation chilometri zero del novembre 2018 che proponiamo a un prezzo di 19.300 euro una vettura anche questa da non perdere ora vi presento un nostro usato un veicolo commerciale volkswagen crafter 2000 diesel passo medio tetto normale furgonato del novembre 2012 con 187 mila chilometri che proponiamo a un prezzo di 9 mila euro più iva più passaggio mi venite a vederlo mezzo col quale potete veramente caricare di tutto di più ora passiamo a una opel adam 1.2 70 cavalli glam benzina del dicembre 2018 chilometri zero una vettura recentissima oltretutto proprio di matricolazione molto molto recente lem quindi anche il tetto panorama cerchi in lega bicolore una vettura veramente splendida a un prezzo di 11.800 euro passiamo ora a un'altra nostra chilometri zero una opel mocha 1.400 benzina turbo gpl innovation del dicembre sempre 2018 che proponiamo a un prezzo di 20.800 euro ora vi presento anche quest'altra splendida mocha x 1.400 turbo aziendale sempre innovation del marzo 2018 a un prezzo veramente eccezionale di 16.900 euro ora passiamo un'altra opel grandland x 1.600 diesel automatica allestimento innovation del novembre 2018 a un prezzo di 25.500 euro ora una splendida opel zafira mi 2.000 diesel 130 cavalli automatica innovation full optional macchina veramente veramente bellissima introvabile a livello di chilometri zero la macchina molto difficile da recuperare e che noi proponiamo a 26.900 euro passiamo ora una nostra sempre chilometri zero opel corsa 1.200 5 porte black edition del novembre 2018 a un prezzo di 11.900 euro opel insigna 2.000 diesel 4x4 quindi quattro ruote motrici sport tour e renovation vettura full optional a un prezzo di 29.800 euro ed è del matricolata chilometri zero nel giugno 2018 passiamo ora un'altra chilometri zero opel crossland x 1.200 turbo benzina 110 cavalli innovation del dicembre 2018 che proponiamo a un prezzo di 19.600 euro passiamo a un'altra chilometri zero un opel mocca x 1.600 benzina start e stop innovation del giugno 2018 che proponiamo prezzo di 18.900 euro opel astra 1.600 diesel 110 cavalli 5 porte innovation del ottobre 2018 sempre chilometri zero vettura molto accessoriata anche questa a un prezzo di 20.100 euro ora passiamo un'altra opel adam 70 cavalli glam quindi tetto panorama vettura molto completa molto dotata di accessori del novembre 2018 che proponiamo a un prezzo di 11.700 euro queste sono solo alcune delle nostre diciamo vetture aziendali chilometri zero eccetera venite a trovarci chiedeteci veramente la vettura che volete che desiderate vedrete che nel nostro parco auto troverete la macchina dei vostri sogni vi ricordo naturalmente che tutte le vetture usate vengono proprio controllate nel minimo dettaglio nelle minime viene fatto un tagliando completo viene preparata perfettamente dai nostri preparatori nella pulizia interna esterna quindi nulla ripeto e lo ripeto sempre nulla viene lasciato al caso quindi abbiamo finanziamenti personalizzati per tutte le tasche chiedeteci veramente vi sarà dato vi ringrazio e alla prossima ok allora i ragazzi mi ha spiegato tutto a questo punto vi aspettiamo numerosi qui in concessionaria così potete toccare vedere provarle le nostre automobili e poi sicuramente magari anche comprarle perché no allora un grande saluto ciao a presto ciao ciao